Teleton 2018, ospiti e diretta festa di Natale.Non solo artisti, ma anche giornalisti Nel parterre di festa di Natale, Teleton 2018 c'è il mezzo busto del Tg Alberto Matano Si inizia parlando del suo Natale, mio cognato è il master chef di casa Quest'anno stiamo tutti insieme a Milano, ma sono calabrese d'origine Matano parla della malattia che gli è stata assegnata, l'emofilia. È un re con per niente male, l'emofilia è universalmente riconosciuta come la malattia dei nobili Vittoria, regina d'Inghilterra, ha avuto un figlio che si è ammalato. Altre due figlie ne erano portatrici sane, in quanto donne Per l'opinione pubblica riguarda solo il sangue blu. Ma non è proprio così, non è dovuta a vasi sanguigni fragili o a piastrini deboli, ma di un vero e proprio errore nel genoma La speranza che ci viene dalla ricerca è questa, c'è un gene difettoso che riguarda l'emofilia E magari c'è anche la possibilità di guarire. Millicarlucci.Millicarlucci non poteva proprio mancare Mi fa strano, essere qui a casa tua, oggi, dice Antonella Clerici. Lo studio di Teleton è lo stesso di Ballando Ti prometto che per marzo sarà tutto a posto, scherza la conduttrice. Millie la allusinga, sei una bellissima signora Claus, di rosso vestita E ce n'è anche per Belli, sei più elegante del solito, Paolo. Millie parla del suo Natale, noi abbiamo una politica di compromesso Per non far torto a nessuno, facciamo due alberi, quanti sono i miei figli. Così ognuna ha il suo e nessuno litiga Il racconto di Teleton la commuove sempre, il cuore ti si fa un pizzico. Poi ci sono le storie di successo, in cui tu puoi dire, grazie a Teleton, alle donazioni degli italiani, questa persona è guarita Infine accenna a Ballando con le stelle, vengo da un pomeriggio di provini pazzeschi Ballando con le stelle tornerà in primavera. Ma a Ballando on the road abbiamo scoperto davvero tanti talenti E questa sera ne presenta alcuni. L'anteprima.Antonella Clerici torna in onda. Niente Portobello, questa settimana, ma la serata speciale di Teleton Il titolo è festa di Natale non a caso, è un vero e proprio party con tanto di invitati Padrone di casa, oltre alla Clerici, anche Paolo Belli. Un'eredità importante, alla luce del successo delle scorse edizioni Fabrizio Frizzi è stato per tanti anni in prima linea, in fatto di beneficenza. Vi aspettiamo stasera alle 20.35 per una gara di solidarietà, scrive Clerici su Instagram E' la didascalia a corredo di una foto col suo compagno di viaggio. La Rai scende davvero in campo per Teleton per un grande gioco di squadra, ha detto poco fa al Tg1 Segue l'elenco degli ospiti. Invitiamo il pubblico a casa a inviare sms per tutta la sera, aggiunge Paolo Belli Il numero è 45.510. Dove va in onda.Come ormai accade da 29 anni, anche quest'anno ritorna sui canali Rai la maratona di solidarietà dedicata a Teleton Stasera il programma speciale Fosta di Natale per Teleton darà l'avvio alle trasmissioni dedicate alla solidarietà. Altri appuntamento sono in calendario come detto fino al 22 dicembre Ricordiamo che sarà possibile seguire lo show in molteplici modi e, quindi, non soltanto in tv Festa di Natale per Teleton andrà in onda su Rai 1, e quindi in contemporanea in streaming anche su Rai Play, inoltre sarà trasmesso su Radio 1, Radio 2, Radio 3, Isoradio, Rai Radio Classica, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Tech e Rai Radio tutta italiana Una serata, quindi, davvero importante, dedicata alla beneficenza, alla sensibilizzazione e anche ai sentimenti . Tutti i modi per contribuire.Questa sera torna l'appuntamento con Antonella Clerici, dalle 20 . 35 su Rai 1, con lo speciale Fosta di Natale Teleton e la raccolta fondi di solidarietà . Sarà l'ex regina di Portobello ad aprire la prima serata di Rai 1, passando poi la diretta nelle mani di Gigi e Rossi in seconda serata . Ma come sarà possibile contribuire e dare una mano? Ricordiamo che sino al 31 dicembre 2018 è attivo il numero solidale 45.510 . Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari . Il contributo sarà invece di 10 o 5 euro chiamando da telefono fisso . Il valore della donazione di Gigi e Rossi in seconda serata . Disponibile anche la donazione con carta di credito, sempre sino al 31 dicembre, al numero verde NXI 811 33 77 . Tutti i dati della maratona.Oggi, sabato . Il 15 dicembre, in prima serata su Rai 1, in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico, Antonella Clerici presenta festa di Natale una serata per Teleton . Ad affiancare Antonella Clerici in una serata dedicata alla solidarietà ci sarà Paolo Belli con la sua orchestra . Quella che parte questa sera è la storica Maratona Teleton che, da 29 anni, va in onda sulle reti Rai per raccogliere fondi per aiutare la ricerca scientifica che si occupa di malattie genetiche che possono colpire chiunque stravolgono la vita non solo dei malati, ma anche delle loro famiglie . La maratona Teleton andrà in onda dal 15 al 22 dicembre e come sempre coinvolgerà tutti i canali televisivi e radiofonici della Rai . Serata Teleton, gli ospiti.Tanti gli ospiti che, nel corso della serata, regaleranno un sorriso ai protagonisti delle storie e al pubblico . Tra i tanti, ci sarà uno dei volti più amati della fiction di Rai 1, l'attore Luca Zingaretti, volto dello spot della campagna Cancelletto presente di Fondazione Teleton, che reciterà un monologo sulla storia di John Crowley e di Rossella Passero, una ragazza con la malattia di Pompe . Anche quest'anno, poi, non mancherà la presenza di Gigi D'Alessio e racconterà la storia di due bambini con una rara malattia metabolica trattati all'Istituto Teleton di Pozzuoli, Napoli . E ancora Flavio Insinna che reciterà un monologo satirico di Per Paolo Baingio affetto da fibrosi cistica e, in collegamento da Milano, ci sarà Vincenzo Salemme, Marco Liorni, Mara Venner, Millie Carlucci, Amadeus e Alberto Matano leggeranno le buone notizie . Le storie. Protagoniste della serata dedicata a tale quale show saranno le storie delle persone che, ogni giorno, devono fare i conti con le malattie genetiche . Ci sarà la storia di Adam e Ayman, i gemellini affetti dalla sindrome di Diwiko Taldrich che, grazie alla terapia genica, hanno oggi una vita normale . Laura, affetta dalla malattia di Charcot-Marie-Tut, è riuscita, nonostante la disabilità, a diventare mamma . E ancora virgola.Valerio, con la sindrome di Down, nominato al Fiere della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per essere riuscito a salvare due bambine che stavano annegando in mare a Sabaudia . L'omaggio a Fabrizio Frizzi.Il grande assente della Maratona 2018 di Teleton sarà Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso marzo e che, durante la sua carriera, è sempre stato in prima fila per aiutare le persone più bisognose . Nel corso della serata, Antonella Clerici, molto amica del conduttore, insieme alla sua squadra, avrà diverse occasioni per ricordare Frizzi . La fondazione ha annunciato di aver intitolato alla memoria di Fabrizio Frizzi una delle borse di studio annuali erogate dall'Istituto Teleton di Genetica e Medicina di Pozzuoli, Napoli . La prima beneficiaria è Diletta Siciliano. .